Ma lui è chi dei nostri? Sì, sono di Aiko, origini giapponesi però. Ma come giapponese ha un po' di esperienza, vedo che è il mannaforbes, ha l'esperienza nel poare e roba del genere? Sì, esperienza millenaria di potatura di piante. Allora, mi sono insonato che volevo risolvere un problema. C'è il tempo di venire con me, per farvi vedere una piantina che si potrebbe darvi dentro ad orforbesare? Certo che ce l'ho, volentieri. Andiamo a vedere se vuole. Andiamo a vedere, dai vai con me. Arco, in questo periodo qua, è la capitale mondiale del bonsai. Allora, qua sono sotto il cedo del 1872, ormai è la pianta più grande che è in zona. Allora, dopo aver visto tutto quello che è del bonsai, piante, piantine, piantotte piccole, ho pensato, e se forse il bonsai è una sforbesata anche questa qua, no? Così, almeno la può durare, perché ormai sento passare anni, magari la pianta la va a morire, come è già successo, altri cederi che era qua intorno, no? Allora, magari, facendola così, se potrei anche salvarla. Allora, ho chiamato a chi è il maestro giapponese. Buongiorno. Tai? Tai Ossutut. Tai Ossutut. Tai Ossutut è proprio un cognome giapponese, ma sei qua dei nostri abiti qua. Ti mi parli della cera che ho visto ancora? Sono nato qui a Daiko. Sono nato qui a Daiko. Daiko? Va bene. Allora, che pensi, maestro, Tai Ossutut, se da una sforbesata dentro qua? Sarei in grado di fare, è ben grande però, eh? Però, fammi vedere che sforbes, con la sforbes, con i salsi buoni di fare un buon bonsai da fare. Certo. E, scusa, in caso di fare un bonsai, se manteneri pure la pianta oppure colere ancora dei disti? Certo, c'è un bel lavoro da fare, però possiamo provare e avremo un bel risultato. Ah, ma, allora, inizia, inizia il lavoro e vediamo cosa succede, dai, prova, da dove cominci. Facciamo così, ecco, poi tagliamo questo, andiamo, facciamo questo, questo non va bene, questo bisogna aprire, e così. E continueremo fino in cima alla pianta. Buon, allora, intanto il maestro, Tai Ossutut, continua a lavorare, lavorerà a 4-5 giorni, lo vediamo fra 4-5 giorni per vedere il risultato dell'operazione fatta dal Tai Ossutut. e intanto vi ringrazio. Ecco, ecco, questo è il risultato del maestro giapponese Tai Ossutut. quel che l'è riuscì a fare, con Tena Forber, perché par che Forber sia un'attrezza da niente, guarda, dal cedo del 1872, questo è il risultato. Adesso questo qua, probabilmente, fermo il concorso l'anno prossimo, stanche vai. Allora, da Telegara Trentino, da me e dal maestro Tai Ossutut, buona giornata a tutti. Grazie. 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 Grazie.